Taranto è davvero una città abbandonata a se stessa. Vedete ci troviamo qui in via Duca degli Abruzzi pochi metri di distanza da via Dante e c'è questo cratere, non questa buca, questo cratere che si è aperto sul manto stradale e giace così da mesi, oltre quattro mesi, guardate parliamo forse di una profondità di almeno un metro e mezzo minimo, un metro e mezzo se non di più, forse anche due metri, ma diciamo un metro e mezzo. Guardate, il manto stradale è venuto completamente meno, ha ceduto e qui si rischia veramente una tragedia. La zona transennata da mesi. Caro Melucci, questa buca appartiene anche al tuo periodo di governo nella città e cosa hai fatto nonostante le tante segnalazioni? Per ovvie ragioni devo anche dire cosa sta facendo lei, commissario, per questa situazione. Grazie, grazie. Beh, scusate l'interruzione, ma è bello camminare per strada e sentire dei giovani in moto che ti gridano, ti dicono ti vogliamo sindaco. Melucci cammina e viene contestato, io vengo accolto con affetto. Ma ritorniamo a questa buca, dicevo, a questo cratere. Beh, ci sono anche le responsabilità attuali del commissario, perché non è possibile che nonostante tantissime sollecitazioni non vi sia alcun intervento, come vi sono le responsabilità grossissime appunto dei lavori pubblici. Qui è a rischio la pubblica incolumità, qui il manto stradale può ulteriormente cedere e qualcuno finisce qui dentro e succede davvero una tragedia, una catastrofe. Da un anno, mi dice il signore, da un anno. Io avevo conteggiato 4-5 mesi, ma oramai si è perso il tempo, si è persa la misura del tempo. Ma, ripeto, non è sensazionalismo, non è una delle tante buche presenti a Taranto. Qui è un cratere. Prego il nostro amico operatore di tornare, guardate, ho paura che io stesso vada a finire qua dentro. Guardate, guardate, qui non lo so, se uno ci mette una mano, ci posso mettere il microfono, non so dove si va a finire. Guardate un po', guardate com'è profondo, guardate, ci posso entrare, guardate. Un cratere, guardate. Parliamo, un cratere, parliamo di un metro e mezzo almeno. Guardate qui. La rinascita che ha seminato Rinaldo Melucci, eccola. Ecco, Melucci, come hai fatto sprofondare Taranto. Ma il problema non è una buca che si apre, una strada che sprofonda. È l'assoluto silenzio, il menefreghismo, il non aver fatto nulla per intervenire in questa situazione. Questo è lo scandalo, questo è la vergogna. E con quale coraggio, Melucci, ora tu chiedi il tuo consenso ai cittadini? Con quale coraggio? Meditate, cittadini, meditate.